Sul marciapiede Ho visto un barbone morto sul marciapiede. Il suo cane gli faceva la guardia. Tutto finisce così? Commento No, perché il cane e il barbone si sono amati e questo amore ha prodotto nel cane un avvicinamento al mondo umano e al barbone uno scatto di sentire. Grazie